Se volete acquistare crediti passate da IGVOLT, link in descrizione, e utilizzate il codice coupon malati tutto in maiuscolo per avere il 6% di sconto. Sono veloci, sicuri, affidabili ed economici. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Nuove Malati di Foot, io sono Geoffy Spod, lo staff di NMF, benvenuti nella player review di Shadow, nella sua versione Tots con 87 di rating. Prima di iniziare questa review voglio chiedervi di arrivare almeno a 60 like o mi piace per questa review e per questo giocatore, secondo me li raggiungiamo tranquillamente. Partiamo con i pro. Il primo è assolutamente la velocità, 92 con 87 accelerazione e 96 velocità scatto. È un giocatore molto molto veloce. Altro pro, il dribbling, tutto del dribbling anche grazie alle 4 stelle skill che sono un altro pro. Ha un 89 con 90 agilità, 84 equilibri, 83 riflessi, 89 controllo palla, 89 di dribbling. Devo dire, è un giocatore che ha un ottimo controllo palla, ottimi riflessi, ottimo equilibrio, è davvero agilissimo. Altro pro, il tiro. Anche se del tiro ho riscontrato un piccolo contro, ovvero il tiro a giro, che risultava molto impreciso e debole. Ma comunque ha un tiro dalla distanza, una potenza di tiro davvero ottimi ed ha anche una finalizzazione molto buona. 85 con 86 posizionamento, 87 finalizzazione, 86 potenza di tiro, 86 long shot, 79 tiro a volo, 68 rigori, piede preferito il destro e 4 stelle piede debole. Le 4 stelle piede debole sono un altro pro, perché anche di sinistro ragazzi ha un ottimo tiro e ha anche degli ottimi passaggi che sono un altro pro. E in carta ha un 86 con 91 visione, 83 cross, 91 passaggi corti, 87 lunghi, 75 effetto, 43 calci piazzati. E devo dire, fa degli ottimi assist e infatti con lui ho realizzato un 2-3 assist vincenti. Altri valori in carta, 75 fisico con 78 resistenza, 73 forza, 78 aggressività. E' un giocatore con una forza fisica accettabile, accettabile, anche se in game ne dimostra un po' di più di quanto riportato in carta. Colpo di testa, 67, mi sembrava un 75 ragazzi. Ha un colpo di testa molto buono, anche se non è proprio un pro. 66 elevazione con 63 precisione di testa. Head è alto, 173 centimetri. Non proprio altissimo, però un colpo di testa, come già detto, buono. Walk rates alto, medio è un buon walk rates. Avrei preferito più un alto basso, perché comunque è l'ideale secondo me per un'ala, un'ala. Però essendo nato come esterno, l'alto medio ci sta. Usato come ala sinistra in un 4332 e come ATS in un 4321. In entrambi i casi mi sono trovato bene. Alternative abbiamo Royce, Ribery, Sanchez ed altri. Tra le normali, Royce. Tra le leggende, Geeks. Nella nazione, Sheryshev. Nella lega, Maicon. Nello stesso livello, scusate, Nani. Paragoni con la versione in forma un più 30 rispetto al base a un più 49. Versioni che non ho provato. Differenze di prezzo tra TOTS e IF 75K. Tra TOTS e base 88K. Prezzi per PS4 ed io l'ho pagato a 89.000 crediti. Un prezzo non proprio altissimo. Dunque ragazzi, stiamo per raggiungere alla conclusione di questa review. Il mio voto finale per questa carta è un 8 più. Gli ho dato quel più perché è un 8 sì, però si avvicina moltissimo secondo me a un 8,5 perché è un'ala molto buona, segna, dribbla e veloce ed anche un fisico comunque accettabile. Dunque ragazzi, vi chiedo di arrivare almeno a 60 like o mi piace per questa review per questo giocatore. Secondo me li raggiungiamo tranquillamente. Qui è Giovispo, vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli! Ciao!